Bridgerton 3, ecco chi non ci sarà. Bridgerton è la serie Netflix, che è stata seguitissima in tutto il mondo, nel corso di entrambe le due stagioni. La seconda, molto attesa dal pubblico, è stata pubblicata a marzo, e ora tutti ne stanno parlando. Intanto si pensa già ad un'ipotetica terza stagione. Karitra Kandran, ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato, del futuro del suo personaggio, Edwina. Bridgerton 3, Karitra Kandran svela che Edwina, potrebbe non esserci. I fan di Bridgerton, hanno avuto modo di assistere, alla seconda stagione della serie, che è stata divulgata da Netflix, proprio alla fine del mese di marzo. Dopo l'enorme successo della prima stagione, che venne pubblicata, nel giorno di Natale del 2020, si è deciso di procedere alla seconda, ed ora anche la terza è stata confermata. Infatti, già nel corso dell'estate di quest'anno, partiranno le riprese, per narrare ancora una volta, le interessanti vicende della famiglia Bridgerton. Karitra Kandran è stata intervistata in proposito, ed ha parlato del futuro del suo personaggio, Edwina Sharma. Nel corso dell'intervista, rilasciata ad Entertainment Tonight, l'attrice ha rivelato di aspettarsi dei drastici cambiamenti per Edwina, nel corso della prossima stagione. In particolare, Karitra ha dichiarato che la serie parla soprattutto della famiglia Bridgerton anche se sicuramente Edwina fa parte di questo universo. Non è possibile aspettarsi che continui ad essere presente, sempre allo stesso modo. La Kandran quindi è apparsa molto scettica sulla possibilità che il suo personaggio continui ad essere nelle trame della terza stagione. Miss Edwina è stata una delle protagoniste di questa stagione, assieme alla sorella Kate e alla madre Lady Mary. Ma l'attrice ha lasciato intendere di ipotizzare un'uscita di scena per Edwina nella terza stagione. È possibile che il personaggio non si veda più, oppure che semplicemente sia meno presente? Non è da escludere che si possa assistere ad un suo addio nelle prime puntate della terza stagione. Bridgerton 3, confermati Jonathan Bailey e Simone Ashley. Nel corso della seconda stagione, in ogni modo, il personaggio di Edwina è stato abbastanza di rilievo. Dopo essere stata insignita del titolo di diamante della stagione dalla regina Charlotte, Edwina è stata corteggiata dal visconte Anthony. Quest'ultimo, però, decide di avvicinarsi al suo unico vero amore, che è Kate. Alla fine della seconda stagione, infatti, i due decidono di convolare a nozze, e ottengono il beneplacito della stessa Edwina, che alla fine ha perdonato la sorella. Anche la regina decide di dare la sua autorizzazione al matrimonio, ed i due ottengono il loro lieto fine. Proprio nell'ultimo episodio della serie, però, la regina dice a Miss Edwina di avere un nipote da presentarle, ovvero il principe Friedrich. I fan della serie hanno creduto ed ipotizzato che nella terza stagione la presenza di Edwina fosse necessaria per assistere allo sviluppo della storia d'amore tra lei e il principe Friedrich. Sembra, però, che non sarà così, ed è probabile che la vicenda venga seguita da lontano, con qualche racconto dei protagonisti, allo stesso modo in cui fu gestita l'assenza del duca. Una cosa del genere era già avvenuta con Simone Bassett, che lasciò la serie, dopo una prima stagione da protagonista, al fianco di Daphne Bridgerton. Jonathan Bailey e Simone Ashley, invece, hanno lasciato un'intervista, nella quale hanno fatto dichiarazioni molto diverse, rispetto alla collega, Karitra Kandran. I due hanno dichiarato, di essere stati confermati anche per la terza stagione, e di aver dato la loro disponibilità, anche per le stagioni a venire. L'annuncio dei due attori è ormai ufficiale. Voi che cosa ne pensate? Vi dispiace per l'uscita di scena di Miss Edwina, e avreste preferito continuare a seguire le sue vicende, anche nella terza stagione? A voi i commenti. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie. Grazie a tutti.